Ciao amici, oggi ci troviamo su TearMaker e facciamo una cosa che mi fa sempre molto divertire, cioè classificare le cose e dire che cosa è bello e che cosa è brutto. Iniziamo a spostare un po'... oh ecco, sembra meglio. Iniziamo a spostare il tutto. Allora, come funziona TearMaker? Niente, semplicemente bisogna dare una valutazione di varie classifiche, classificare vari elementi, come vediamo qua. Adesso ci sono varie pagine perché purtroppo non ce n'è una sui gruppi fatta decentemente, ci sono un sacco di gruppi che non conosco, quindi mi spiace, vedrete la mia ignoranza. Comunque sia, a ognuno si dà una valutazione in questo caso, anzi cambiamole, mettiamo le normali valutazioni con le lettere. E in verità ne aggiungiamo anche un'altra là, che dopo capirete, per quelli che non conosco. Cercherò di classificarli quindi in top player, in molto importanti per la storia della musica, belle canzoni, in che schifo, che merda e non so chi siano. E tutto quello che ci sta in mezzo. Allora, saranno tantissimi, questo video durerà 100 ore, però lo faccio così per divertimento, è più per me, davvero per il futuro, che potrò riguardare. Dirò, ah guarda, all'epoca mi piacevano i My Chemical Romance. No, allora, My Chemical Romance. Come li classifichiamo in My Chemical Romance? Allora, di certo non sono indispensabili per la storia della musica, siamo tutti d'accordo. Per qualcuno potrebbero essere molto importanti, perché magari li ascoltavano in un periodo della loro vita così importante. Hanno scritto, comunque, Welcome to the Black Parade, che è sicuramente una bella canzone, quella che viene definita la Bohem Rhapsody di quelle nate nel 2000. Quindi io la valuto C per il momento, poi al massimo li spostiamo. Allora, System of a Down, i System of a Down in verità mi piacciono molto, adesso qua non c'è il Tier S, quindi il più alto in questo caso è la A. I System, secondo me, sono una A, perché fanno un genere che mi fa molto divertire e le parti di batteria sono molto fiche. Comunque, Band Alternative Metal, ovviamente. Gli Anthrax, non ne parliamo. I Korn, allora i Korn mi facevano cagare quando ero giovane. Adesso non mi dispiace, non devo dire. No, forse gli Anthrax, gli Anthrax non mi piacciono. I Gorillaz. Allora, i Gorillaz, sempre, stesso problema un po' dei Korn, ma quando li ascoltavo che ero giovane non mi piacevano. Non li capivo proprio. Boh, forse il fatto che fossero dei cartoni animati, non lo so, non mi piacevano. Adesso invece devo dire che qualche canzone, non mi dispiace, si nota un po' di capacità, ecco, diciamo. White Chapel, non so sicuramente chi siano. Iron Maiden. A molti non piacciono. E risco, cioè, lo capisco perché non piacciono gli Iron Maiden. Però, vabbè, sono sicuramente indispensabili per la storia del heavy metal e indispensabili per la mia. Quindi molto bello. Non belle da suonare le loro canzoni con la batteria, non mi piacciono per un cazzo, ma... Perché no? I Guns. Allora. Allora, i Guns hanno questo problema. Mi sta su cazzo Slash, principalmente. Come persona, proprio. Quindi non posso metterli più in alto di così. Anche lì, qualche canzone. Ovviamente, non so, Paradise City. Cioè, Paradise City l'avrò ascoltato un miliardo di volte perché era poi la colonna sonora di un bellissimo videogioco. Però, ecco, non a pari degli Iron Maiden, non importanti come gli Iron Maiden. Sì, sono d'accordo. Allora, i Black Sabbath, invece, a me piacciono molto e sono sicuramente importanti per la storia del heavy metal. Quindi li mettiamo qui da Ozzy Osbourne e Tony Homme in avanti, anche quando c'era Dio, ma anche quando c'era Young Gillan. Comunque sia, sicuramente sono importanti per i loro primi album, per la storia del metal, del doom metal, chiamatelo come volete, e per la storia dell'hard rock. E in più sono molto belle le canzoni, quindi perché no? Poi, vabbè, Ozzy Osbourne si è bruciato, sì, siamo d'accordo. Non credo ci sia nulla da dire. Anche se a molte persone non piacciono. Io sono un grandissimo fan, forse è una delle mie, forse è la mia band-hard rock preferita di sempre, che ho visto anche dal vivo più volte. Anche i suoi componenti da soli. Anche con Steve Morse, Don Airei, alle tastiere e alla chitarra. Non sono per un cazzo male. C'è una canzone, l'album nuovo, che non è per niente male, devo dire. Cioè, per aver così tanti anni il cantante, il batterista, cioè Ian Pacey, Ian Gillan, Roger Glover. Non so come faccio, no? Sono ottime, ottime canzoni. Indispensabili per la storia della musica, certamente. Indispensabile la chitarra di Blackmore all'epoca, certamente. Non si può parlare di niente di quello che è avvenuto dopo, né heavy metal, né metal. Nel mondo che Ronnie James Dio ha fondato il Rainbow con Richie Blackmore dopo che era uscito da Eddie Purple. Già lì si capisce solo da questo l'importanza. Che si disse, mi fanno cagare. Cioè, sinceramente, adesso qua lo dico qua l'annego. Cioè, le CDC mi stanno sul cazzo. Non mi sono mai piaciuti. Non mi sono mai piaciute le loro canzoni. No, cioè proprio no. Invece qui mi sono sempre molto piaciuti, devo dire. E mi sono piaciuti, cioè mi piacciono particolarmente per il fatto che ogni album è diverso. Cioè, hanno suonato metal, cioè diciamo so, I want it all. Per intenderci è un po' metal, un po' hard rock pesante. Hanno suonato la musica anni 80, tipo Radio Gaga. Poi hanno suonato la musica anni 50, tipo Crazy Little Thing Called Love. Tutti i generi. Riuscivano a fare qualsiasi genere e gli veniva molto bene. Cioè, capivano il principio che muoveva ogni genere e riuscivano a trasformare una canzone. Secondo me è ottimo. Poi, componenti molto dotati. John Deacon, ottimo bassista. Mentre Taylor alla batteria, sì, cioè, è sì, è un batterista che esiste. Allora, i Foo Fighters. E li mettiamo insieme con il Nirvana. Allora, adoro Dave Grohl e la batteria di Dave Grohl come batterista. Alcune delle canzoni dei Foo Fighters mi piacciono molto. Stesso discorso per le canzoni di Nirvana. Però non sono mai stato così un grande fan. Sinceramente, apprezzo tantissimo che Dave Grohl sia riuscito praticamente a creare due band incredibili in 20 anni. Completamente diversa tra loro, cioè, componenti diversi. E comunque è assurdo, vuol dire che la capacità artistica sicuramente c'è. Adoro il suo stile di batteria. Uno dei miei batteristi preferiti. Le canzoni dei Foo Fighters, sì, mi piacciono. Qualcuna mi piace, ma niente di incredibile, insomma. I Ghost, allora, i Ghost molto belli esteticamente. Alcune canzoni, tipo Year Zero per intenderci, adesso si chiama Year Zero. Non sono male, esteticamente sono incredibili. Però, ecco, un po' noiosi. Siamo d'accordo? Meshugga, mi stanno sul cazzo. Cioè, ecco lì, Meshugga sono farsi i pipponi. Farsi i pipponi sulle canzoni. Devo dire, come i Gojira, ecco. Stesso, stessa roba, stesso discorso dei Gojira. C'è, bello, se ti piace farti i pipponi sulla musica, e basta. Stesso discorso un po' che vale per i Tool. Ma i Tool mi piacciono di più, cioè le canzoni di Tool mi piacciono di più. Si fanno i pipponi, ma hanno delle canzoni decenti. I Meshugga sono solo i pipponi e i Gojira idem. Green Day. Allora, Green Day hanno bisogno di una rivalutazione, secondo me. A differenza dei Blink 182, i Green Day non suono male, effettivamente. Cosa sono i Kill? Sono gli Ice Nine Kills. Non li conosco, li mettiamo qui. I Green Day hanno bisogno di una rivalutazione, perché le loro canzoni effettivamente non sono un cazzo male. La voce di Billy Joel è particolare ed è migliorata nel tempo, secondo me. All'inizio cantava peggio, anni 90 cantava peggio. Dopo è migliorato grandemente. Gli ultimi lavori, vabbè, non li valutiamo, ovviamente. Sono sicuramente indispensabili per chi è nato negli anni 90. Sicuramente sì. Molto più indispensabile di Meshugga. Linkin Park, possiamo fare lo stesso discorso dei Korn. Ecco, un gruppo che non mi piaceva, all'epoca, e che ho iniziato ad apprezzare più avanti nella mia vita. Però... Sì, è quel genere qua un po' alternative, sì, alternative, nu, bello, ma non ci vivrei. Megadeth, allora. I Megadeth... Non sono forse importanti come altri gruppi che vediamo qua. Adesso li mettiamo subito, ovviamente. Ecco, non posso mettere però i metalli che siano i Megadeth. Spostiamo i Megadeth sotto. I Megadeth e i Metallica sono sicuramente indispensabili per tutti i musicisti. I Metallica anche però per i non musicisti, mentre i Megadeth mi sembrano un po' più davvero relegati ai megafan super giganteschi. I Megadeth hanno dei pezzi di chitarra spaventosi. Bellissimi. La voce sua mi piace. Hanno delle buone canzoni. Però forse gli manca quel... qualcosa che gli permette di rompere, di uscire, di diventare super mega famosi. Invece i Metallica hanno tutto, hanno un sacco di hit, un sacco di album diversi fino alla metoda degli anni 90, quantomeno. Ovviamente fondatori del genere Trash Metal, insieme agli Antrax e Megadeth e qualcun altro, insomma. Che cosa gli manca ai Metallica? Beh, si sono persi nel tempo, certamente. E avevano negli anni 80 dei suoni incredibili. Cioè la batteria, il suono di batteria di Koso negli anni 80 era incredibile. Ecco, tutte cose che poi si sono perse nel tempo. E Lars nel tempo mi è peggiorato grandemente. Motored. Ecco, Motored a me piacevano molto. Tutte le canzoni, è vero, sono un po' uguali tra di loro. Però è lo stile, è proprio il sesso, droga e rock and roll fatto a band. Soprattutto Jack Daniels. Nel senso, cosa gli si può dire? Indispensabili. Sì, sì. Poi se volete qualche consiglio, ecco ve lo dico adesso, avrei dovuto dirlo all'inizio. Di canzoni varie che vi consiglio io, sotto vi metto qualche playlist di Spotify. Così potete ascoltare da lì. I Muse. Allora, i Muse. Stesso problema dei Korn. Hanno alcune canzoni belle che non mi dispiacciono, ma tendenzialmente mi stanno proprio sul cazzo. Cioè le persone che li compongono. Non credo ci sia niente da dire. I Pantera sono in dubbio. Adesso mi fa ridere che metto Queen, Metallica, Motored e Pantera nella stessa categoria. Questi non so chi, senza inizio a toglierli. I Pantera... Allora. Chitarra di altissimo livello, batteria di altissimo livello, voce di altissimo livello. Hanno inventato un genere che è il Groove Metal. Che cosa gli vogliamo dire? Canzoni, paurose, album bellissimi. Tutti gli album bellissimi. Non so cos'altro dire. Cioè l'unica loro sfortuna, se vogliamo chiamarla così. E ovviamente aver terminato la carriera un po' precocemente, però. Sono indubbiamente irraggiungibili. Rage Against the Machine. È un gruppo che esiste. Rage Against the Machine esistono. Cioè sono una cosa che esiste. Allora. I Red Hot. Sono... Sarebbero da A. Ma li ho visti dal vivo. Un paio di anni fa. A Milano. E dal vivo sono terrificanti. Cioè il loro concerto è durato un'ora. Esatta. Hanno fatto tutte delle canzoni di fila, tra cui praticamente solo canzoni sconosciute a momenti. Loro. Ma a stesse ne sono andati. È stata una roba tristissima. Orribile. Allora, gli Slayer sono sempre, ecco, l'altro gruppo che insieme... Ai Metallica, Ai Megadeth, Ai Korn... E non Ai Korn. Ciao. Chi è che erano gli altri? Non mi ricordo. Hanno fondato il Trash Metal. Però, a differenza di questi, gli Slayer... Sono sicuramente indispensabili. Ma le loro canzoni sono tutte un po' troppo simili l'una con l'altra. Poco innovative, diciamo. Slipknot. Anche qua, Joey Jordison, mi piace un sacco la batteria. Ottime, alcune ottime canzoni. Gli manca proprio il, boh, quello che lo rende un simbolo, che li rende simili a questi. Che avevo messo sopra. È difficile spiegare perché. Avengers 7-4, stesso discorso dei Rage Against. Ok, anzi, forse Rage Against li metterei uno sopra, dai. Kingling in the name of... Avengers 7-fold esistono. Bene. Non c'è nessun dubbio. Anche se io preferisco... Ho sempre preferito Ian Pace a Bonzo come batterista. Ma... Il Zeppelin anche qua, indispensabile. Chissà cosa avrebbero fatto se non fosse morto Bonzo. Sì, certamente. Indispensabili per la storia della musica e per... La storia dei musicisti. Allora, i Fafinger Death Punch potrebbero anche non esistere. Non sentiremmo nessuno, ma che mi fa ridere che gli ACDC sono gli unici che sono rimasti. Però mi fanno proprio cagare gli ACDC. I Rush, invece, indispensabili. Sempre per la storia della musica. Ecco, un gruppo prog, tendenzialmente rock, prog, metal. Non tanto metal, ma... Ha alcune influenze, certamente. Ottimi compositori Rush. Fafinger Death Punch sono plasticosi, non c'è niente da dire. Noi ci vediamo nel prossimo video in cui faremo un'altra tier. Vai. Mi fa ridere, comunque, fare queste cose. Ciao.